Non tanto per la quale, tu non l'hai nemmeno giocato, il cosinone poi ha stentato un taglio e adesso ha preso un po' in via questa squadra. Tu sei un di quei giocatori che dal lato in cui il cosinone è stato conosco in Serie A, hai sempre venguto nelle potenzialità di quel quale. Dal lato sei ancora una domina inamovibile nello schieramento di questo cosinone, non forse lo è. Un momento bello da continuare a tenere così, bello e quindi in vista dell'aspetto di Ludin è come sta vivendo la squadra in noi. Siamo partiti chiaramente da una promossa, dovremmo un attimo ambientarci con quello che era il livello di questo campionato. Adesso credo che stiamo iniziando a prendere un po' le misure come squadra, come collettivo e dopo appunto una partenza dove abbiamo raccolto poco, adesso magari stiamo riuscendo anche a metterli insieme in qualche punto. È vero anche che sì, nelle prime partite abbiamo dovuto prenderci conto della categoria, però sono state poche le partite, forse solo quella con l'Atalanta, dove abbiamo meritato di non raccogliere niente, perché poi il resto del partito credo che abbiamo giocato alla pari con delle squadre sulla carta molto superiori. Siamo sulla strada giusta, andiamo avanti così, speriamo chiaramente nelle prossime partite di raccogliere il massimo, perché abbiamo la possibilità di fare qualche punto, diciamo, ci sono delle partite non più abbordabili, tra virgolette più abbordabili, no, tra quelle che abbiamo in casa e quelle trasferte, quindi cercheremo di raccogliere il massimo.